Si chiama Urban Center e offre la possibilità a liberi professionisti o semplici cittadini di partecipare al dialogo con proposte concrete per l'elaborazione di piani urbanistici particolariggiati di sviluppo di un territorio. Il Comune di Roseto intende adottarlo per assicurare una più ampia partecipazione della comunità in previsione del nuovo piano regolatore nella pianificazione urbanistica. Il nuovo assessore all'urbanistica, Orazio Vannucci, spiega l'importanza dell'Urban Center. Si tratta di uno strumento che consente ai cittadini di dare un contributo di idee su determinati piani, come il piano particolariggiato di Roseto Centro e poi quindi di discuterli in sede politica, quindi una maggiore attuazione della democrazia partecipata. In altre parole i cittadini diventano protagonisti principali nell'avanzare proposte sullo sviluppo futuro della città che vada oltre l'interesse personale ma che tenga conto di un interesse legittimo della collettività. Questo proprio per arrivare ad una relazione condivisa, chiaramente pur nel rispetto dell'istituzione politica che rappresenta i cittadini e che è fatta da persone votate, però va verso il discorso di democrazia partecipata, coinvolgere attivamente i cittadini a scelte fondamentali. C'è comunque un iter burocratico da rispettare prima di rendere esecutivo l'Urban Center, uno strumento che si baserà essenzialmente sul confronto, su riunioni, assemblee pubbliche, che riguarderà ogni porzione del territorio rosetano, anche se all'inizio interesserà solo la zona centrale della città delle Rose. L'adozione in consiglio comunale del regolamento per l'Urban Center che sarà pensato in prima battuta per la redazione del piano particolareggiato di Roseto Centro. Sarà costituito da una commissione, però avrà un'attività riferita alla promozione di questa redazione e ad una sensibilizzazione verso i cittadini nell'avanzare proposte. Chiaramente riguarda in primo piano i progettisti, tutti i tecnici, ma anche i singoli cittadini, anche a scelte di carattere generale. Si guarda dunque al futuro di Roseto, alla Roseto che i cittadini sognano, più vivibile, con tanto verde e zone ciclopedonali, lontano dal traffico.